Alessandra Zanutto, consigliere comunale a Portogruaro, tra il sede della Lega Nord, in maggioranza. Beh, non le faccio tante domande. Brevemente, Zanutto, servono quei parcheggi in Via Valle oppure quel verde, insomma, sarebbe stato, diciamo così, più auspicabile? Allora, no, il verde non verrà toccato tutto assolutamente, ma avranno fatti solamente alcuni parcheggi, perché purtroppo per non perdere il contributo regionale c'è questo obbligo. Ricordiamo che però questo disegno era già previsto nel PRG precedente, e saranno fatti solamente, vero, potrebbero essere a volte molti, ma bisogna vedere in relazione alla superficie totale e il verde resterà sicuramente, non siamo assolutamente contrari a togliere il verde alla città, anzi, assolutamente positiva. Anche perché un alleghista non potrebbe mai togliere un verde. Assolutamente no. Grazie ad Alessandra Zanutto, mi concedo questa licenza. Certo, assolutamente ci mancherebbe. In chiusura, grazie per essere stata con noi.